Pace, libertà, futuro. Un richiamo all'umanità sotto forma di graffiti impressi sulla facciata d'ingresso del centro socio-culturale Ararat, che dal 2003 ospita la comunità kurda di Roma nel quartiere Testaccio. Sono circa 200 in tutta la capitale e da quando è iniziata l'offensiva turca in Siria hanno iniziato a far sentire la loro voce con manifestazioni, cortei e sit-in. Come quelli di venerdì scorso a Piazza Indipendenza, al termine dei quali sono stati intonati i cori Erdogan Assassino e Free Kurdistan. Il fulcro di questi moti è proprio il centro Ararat, il cui portavoce chiede insistentemente il cessato del fuoco. Noi non vogliamo questa guerra né da Rojava né da Siria né da tutta la parte. Adesso noi chiediamo tutta l'Europa, tutta il mondo, pure Italia, chiediamo non più di vendere armi in Turchia. La seconda cosa è ritirare l'ambasciatore in Turchia e mandare l'ambasciatore in Turchia qua a Italia. Le testimonianze del massacro di civili arrivano dalle parole di chi, in Kurdistan, ha lasciato le persone care. Deci giorni fa hanno buttato, bombardato pure un paese vicino, si chiama Surij. Così centina di persone, bambini, persone all'assieme, persone all'ocente, tutti hanno ferito, hanno portato all'ospitale. Morti non lo so, ci stanno anche alcuni morti, si bombardano di aereo, morto sicuro, ma non sappiamo precisi quanti. La soluzione per loro è soltanto una, uno spazio dove vivere in pace all'insegna del laicismo e della libertà. Noi abbiamo Kurdistan, è certo che chi vuole, chi non vuole.